Siamo ritornati sulla Plague Tale, continuiamo. Avevamo potenziato un po' di roba lì, il baco da lavoro, e dovevamo incontrare a Joseph. Cos'è? Iniziamo bene. Cosa sta succedendo? Cosa pensi che fosse? Non lo so, ma mi ha spaventato. La casa? È un buon pomeriggio, lo vedo. Il corso è ancora in effetto, tornate a casa. Cosa sta succedendo? Diciamo la vera. Cosa di lievi. Non, non, riusci, tutti voi! Eccolo lì. Non, non, non! Veloce! No! No, ce l'ha toccato il culo! Muoti! Qua è finita! Ma quanti sono? Brava. Ma dove vado? Andare dalla mia famiglia, penso, no? La casa? Posso farlo! Cosa? Sì, addirittura! Cos'è Tano? No! Eh... No! Madonna, no! Veloce! Quindi si mette male qua. Dio caro! Cioè, pure la casa l'ha battuta. Sì! Sono venuto a te! Sì! Dobbiamo andare! Non stai qui, ragazzi! Sono venuto! No! No! Madonna quanti! Per il Dio! Adesso voglio vedere come fa a liberare da lì. Da quella casa. Ecco, pure il mattone. Dio caro! Ma non finisco mai! Eh, però, Hugo ha fatto qualcosa. Perché qua... Non finiamo a pergo, eh? Se si batte tutta la casa, mo! Secondo me. Sono qui! Oh, merda! E mo? Sshh! Calm down! Please! Please! I know why you're upset! Shhh! Hugo! Please! Shhh! Sto arrivando! Fa qualcosa! Fa qualcosa! Fa qualcosa! Beh? Come ha fatto a fermare tutto? Sì! A parte che c'è pure il fuoco qua, la luce. Quindi anche per quello non sono venuti. E no! Trovarci a prendere stavolta! Sì! 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 Che cazzo! Tutta la città spezzata in due! Cacchio di roba! No! No! These people! It's too late! Keep going! Che cazzo! Che cazzo! Non è colpa tua! Cazzo! È colpa tua! È colpa tua! Il tuo merda è colpa! È colpa tua! Ci sono scopi! Ci prenderà un po' di più! Io volevo per farlo! È scoperto! Io volevo per farlo! Io volevo per farlo! Ci prenderà un po' di più! Ci prenderà! In Marseille, ci vedrai! Ci vedrai! È colpa tua! Ma stai dicendo così! Ma stai con te lì! Lì! Ugo! Sì! Cazzo! Sì! Tu hai il diritto di essere triste e angoloso, ma non ti lascio a perdere, tu lo sai. Siamo trovati un modo. Siamo. Sei ok? Mi pensavo che tu eri... Sì, aspetta tu. Siamo tutti non arrabbiati, Lucas. Vieni a partire, rapidamente! È solo noi, Magister Vaudan. Sì, non ci spendiamo tempo, allora. Andiamo a cercare subito. Capitolo 5, nella nostra scia. Mi pure qua, oh, tutto rotto. Ancora quel sogno ha fatto. Secondo me esiste quel posto. Sì. Lei ha detto che è parte del test. La madre e la majestia pensano che conoscono, ma non. E le persone morono perché di me. Hey, hey, hey. I know. I will do what's good for you. I will. Lucas, go see the captain with Hugo. Sure. He will show you how to pilot the boat. I'll ask him if he can teach us sailor's knots. And maybe he'll let us steer. Yes. We need to get him to safety, Amicia. You want to lock him away again? It's not the same thing. You've seen what happens. The order has people and equipment. They know how to handle this. This happened because of what you and this Vonda did to Hugo. Mother. Shutting him away and keeping up with this torture will kill him. He's a child. He's a victim of all this too. He's my child. We are not enemies, Amicia. I know you love Hugo dearly and I know you two share a bond that I cannot truly understand. But you need to open your eyes. What happened back there will happen again. You're right. You just don't understand. The debris. It's all piled up here. I'm going to take a look. I think I see the problem. We'll take care of it together. All right, kids. I'll let you handle this. Hey, you can go back inside if you want. No, it's all right. I won't let you down. I told you. For now, we'll get that boat moving. But it's not over yet. Yes. Go on. Thank you. Okay, what do we have to do? Ah, she's trapped in the boat. And now I think I'm going to. Look, there's a lot of debris stuck under the hull. Do we pull it out? That would take too long. Maybe we can just push it? Well, let's try. Ready? Ready? But I know that it's a lot of time. Oh. Badly. Oh, shit. You'll have to catch up. What? Amicia! Follow up! Come on, let's find a way around. Well, I hope Joseph will find a way to stop. Ma non può fermare la barra. C'è da rincorrerla io. So many dead. They didn't deserve this. It's a tragedy. I never thought that... It's too late for that. But this island... Hugo says it will fix all this. So it will. How? The question is where? We have to find it. What about your mother? I don't care. But you will have to pick a side. She's... My magistrate. Oh, ma non è che mi sono girato. C'è una cassa qua. Meno male. Prendi tutto. A passage here. Through here. Here's the river. Do they stand? Eccoli lì. Goodness. It's even worse from above. That smell is terrible. What's that? No, no, no. No, no, no. What the hell? It's them! They're already here. Non è un buon segno. Eccoli. Come siamo nella merda? Un'altra cassa. No, no. Do not worry. She's fine, Hugo. No, they're both fine. No, no. No, no. We know how to do it. We're coming. We're coming. We start. There are braziers. Come on, run! We're coming. All right. That's the first step. Con altra cassa. There has to be a wave. So it's kind. Sì, se la faccio farlo a lui, va? Facciano un'altra Quindi devo appicciare Ma non va bene però, forse così devo fare Dai! Te l'ho fatto Di sicuro morì io Cassa... Si gira Ok Eccolo Eccolo Bella lì È ancora scoperto, devo arrivare a lui La tua madre è lì Ha perduto, Lucas, e lo sapeva Ma... Perciò tornare a volerci a volerci a volerci Usare l'acqua di nuovo Sì Lucas, questo è a te Acredito Luca mi prende il fuoco Mi faccio così E tutto l'ho la città NON! Ma che faccio? NON! E l'ho fatto Ma che faccio il fuoco E l'ho fai È ora che faccio il fuoco E tutto l'ho la città A presto E' la città NON! 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 Ma che faccio il fuoco Cosa è questo? Ma che genio è quello? Madonna Vai, tocca a te La faccio al massimo Lascia l'infuoco E lo seguo Buono Non mi ricompensa Bisogna che devo lanciare il bastone Come on È tutto così Si è finito Non lo voglio combinarlo Sì, è tutto ciò che sto aspettando Vai, prima che si scarica Veloce Bell'anni Ok, ora sicuro mi deve spostare quello Probabilmente Anzi no, spero Sasso Spacco il gancio Vai Ah, doveva picciare mi sa Come on E' ancora un bel banco da lavoro Non posso fare niente Non si sa mai E qua cosa c'è Buono Le rottami mi sa Adesso Devo appicciarlo E andare di là Dai Dai, siamo quasi arrivati Ma andai lì Ma so che devo andare nel ponte Non è più scontro Devo andare No, lì devo andare Va a cagare Vai Qua c'è un altro bastone Anzi manco serve Ce la stiamo giocata bene Ah, ci siamo E' ancora una cassa Ma da Cosa fa questo? Devo girarlo Come faccio a liberare la catena Maledizione Ho dovuto fare il giro Dove va? Dove va? Dove va? E come potete andare lì? Ok, aspetta Qui me l'ha chiuso Liberiamo il passaggio Non potevo farlo prima Maledetto Ah, vi devo andare Diccio un top, sono finito Madonna No, è una merda di cadavio Oh no Non, non Please Non, non Non, mi sono scontro Non, mi sono scontro Non ci sono fai Non mi sono scontro Mi rischio iscrivare la catena No, non ci sono scontro Non ti farò rinchiudo. Non ti farò rinchiudo. Non ti farò rinchiudo. Dove è la porta da scala? Ma sto coltello di merda, non ce l'ho, non ce l'ho mai. Non è possibile che non ce l'ho mai sto coltello. Mi manca sempre. Mi sembra strano comunque. Non posso nemmeno creare il coltello. Qua c'è una cassa almeno, almeno quello. Ma c'è questo. Prova rinchiudo. Scendiamo. Cos'è? Ma è possibile? Ma dov'è che è andato? Che senso ha sta cosa? What the fuck? Sto capendo. Come faccio a metterlo lì il carretto? Aspetta, forse ho capito. Piacchiamo il gancio qua. Ok. Ora posso portarlo. Adesso la trasportiamo di qua. La troveremo. Secondo me. Ce l'abbiamo fatta. No! Non sapevo che era in pericolo. Non lo sentivo. Non in testa l'ho preso. E muori. Maledetto. E ma? Come faccio? Indieferno. Ce l'ho. Lì? Non lo so. Ma non posso. Non lo so. 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 Dott, puoi arrivare? Sì. Brilillante. Non lo so. Non lo so. Ti senti bene? Sì. Credo che il mio sangue è freddo. Ma grazie per non perdere. Sono del stesso gruppo che nella arena, Amicia. Ma cosa è successo nella arena? E chi è questo Arno? È un problema grande che hai ora. Dobbiamo uscire. Eccolo lì, chi è questo qua? Oh merda, qua si mette male Che so, io vedrei proprio come ammazzare a quello Che penso io qua? No, qualcuno ha dovuto coprire Joseph Joseph, fuori, lì, lì, lì Vito è fuori, maledetto Mi faccio fare una 1 io Eccolo lì, al maledetto L'ho in testa Maledetto Ma non è Scappi tu, maledetto Ma non è scappi tu, maledetto Morite tutti Che ne andiamo? Brucatevi tu, non è mai dimenticato Ma non è mai da Ok Non è mancato E' un muore Ok Beh Ah dove l'ho Dovano pure le barriere qui Ok C'abbiamo fatta forse No No Pezzi di merda Pezzi di merda No Mi ha preso la barriere Ok No 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 Non No 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 venite qua maledetta, venite tutti qua ma ce la farò oh è bado che culo vieni la balestra muori maledetta ok forse la sto facendo muori muori la balestra perfetto muori muori devo salire per forza dai fatemi avanti guarda come l'hanno legato assurdo che si col sasso ma che fai no oh shit no adesso è un cosino veloce ma quanto corre pure lui io non è una cosa fa quello non può venire qua ma vieni vieni qua panico stop fai in fretta eccolo lì io lo sapevo ma tu devi morire ok infiliamoci di sotto ok infiliamoci di sotto se vabbè ma è sordo provo a andare piano piano come se vieni qua bello come vado a vedermi veloce 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 sono troppo no se ti toccasli ti toccasli ah no Lucas faster non ecco eeeh meno male No. Come back, we did a first time. What are you doing? Hamishya! Hamishya, what are you doing? What? What are you doing? Devo sapere Ugo. Maledetta. Non te la faccio rinchiusa. How about we go out to sea? Just the two of us. Let's go find your island. Lo sapevo che andava a finire così. Capitolo sei. Tutto alle spalle. They don't know how to pilot a boat. Mommy and Lucas. Oh. They're... ok, Ugo. They're the smartest people I know. It's bleeding again. Yes, how do we fix that before it gets infected, I guess. There's water over there. Yes. Is it your island? Yes. These look like teeth. It's a two-teeth island. You know, I think I saw it on a painting in Bodan's laboratory. So it's really real? I'll do it. Be gentle, please. Yes. Yes. It's done. Already? Nice. What do? Flash. Thank you. You're good at this. I tried not to hurt you. You're good at this. Now come on, sir. We need to find your island. Yes. Yes. Finalmente un po' la normalità. How do we get to an island? By boat. Once we know where it is. Do you think Mommy will be angry? She won't be pleased, but... Don't worry. If you think those bandits will follow them. No. They'll be safe. Oh? They have no weapons. They'll flee or blend in, Hugo. Wow. Look at those flowers. Yes. Cosa mi stai dicendo? Come on. You like flowers? Oh, la che goduria. But... What if their boat sinks? Hugo... Do they know how to swim? They'll be fine. Promise? Yes. Wait. You see that tree? I'm sure I can reach it faster than you. Now? Why? Because you're more of a chicken. I'm not. You are. Show me then. Three, two, one. What? What? Hey, Romeo! It's going to be a chicken! Oh, no. No. Stop bleeding again. I'm winning! Oh, the boss. It's not funny. Sorry, but it is. Oh, did you hurt yourself? No. Oh, look. That's a beautiful feather. So soft. So blue. It must have fallen from that nest up in the trees, see? Oh, yes. We'll look for other nests. I'm sure we'll find more feathers. Yes. In the meantime, I'll make you a bird. A night bird. Oh, that reminds me. I found some pretty flowers when I was out with Lucas. Do you want them? Hmm. I think I prefer feathers now. Oh. Fine. That was a good race. It was. It's still hurting you. No. What hurts the most is that I'm a chicken now. But a nice chicken. You're too kind. I can't. Next time I'm letting you win. Oh, no. Next time I'll crush you. Oh. You hear that? What is it? Chance. It sounds like a mass. There's a church here? We'll see. What is that? A market. No, we're too far from a city. But the chance are coming from there. Maybe they know about the island. Yes. We're going to ask. Hello. Can I do something for you? Hello. Yes. We're trying to find our way. Why are people singing? Oh. Because it's mass time. We're on a court damage. So we pray for the success of our journey. Oh. You're on your way to Rome. Exactly. And you. Where are you heading? To an island. We don't know much about it. Our leader Perrault, he knows the region well. He'll help you. You'll find him near the ruins. He's the one leading the mass. Though you should rest a while in the shade. You look hurt. Oh, yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Why are they going to Rome? Because next year has to be the link. It's a very special year. Let's try to find this Perrault. Careful, children. Not too fast. But as you can extend another one. The elders seem to be doing all right. Yes. They're solid, these ones. Yes. Their faith is strong. What do you say? Hello. Hello. Hi. Oh, look. A swing. Oh. Our tone was always broken. You go. I'll push you. Really? You don't want to go yourself? No. I'll push you. You're tired? Here we go. What's his pets? Don't hurt yourself. I'm fine. Just close your eyes and imagine you're flying. Can we have a swing in our next home? We'll find one with trees around it. Oh. Yes. Apple trees. It's like a spectacular. Hey. I've flown enough, I think. Should we go back? Yes. Well. Thank you. It was... Un bel souvenir. We can't wait to have our own. Ireland first. Home next.